Ciao a tutti Alessandro, impero greco Questo gioco, intanto la campagnetta ovviamente non è che la porterò tantissimo avanti Se la dovessi finire dovrei fare tipo 20.000 capitoli perché è veramente immensa Probabilmente non arriveremo neanche a fare una guerra vera e propria Farò tipo 5-6 capitoli, magari se son bravo qualcuno in più anche di 10-15 minuti ciascuno Poi magari con i successivi capitoli vedrò di destreggiarmi meglio La mappa che ho scelto è il mondo e quello che devo fare ora è cominciare Almeno in questo capitolo che devo fare in questo capitolo È cominciare a capire insomma dove cavolo sono andato a finire E purtroppo, e dico purtroppo, passerò la maggior parte del tempo a passare il turno E aspettare senza fare assolutamente nulla Ovviamente Purtroppo c'è Ah qua intanto sto scoprendo rovine a manetta Cioè mi hanno portato veramente in un posto decadente No dai scherzo Intanto dove siamo finiti qua dove siamo finiti Secondo me siamo in Sud America Dai la buttiamo in Che cazzo ne so dove siamo Ehm Ho fatto già qualche altra partitella con sto gioco E ho provato diverse civiltà Però ho sempre fatto cacare Ha detto a un certo punto Cavolo ma perché non proviamo a fare una campagnetta Intanto qua devo continuare a spostarmi E ho detto perché non proviamo a fare una campagnetta commentata Tanto per fare un piccolo incipit E così insomma vediamo un po' Vediamo un po' come la va Come la va Ovviamente non pretendiate che io faccia chissà quali figate Perché ho scoperto il gioco da veramente poco tempo Tipo la settimana scorsa L'ho installato e ho iniziato a giocarci E per cui non è che Cioè Cioè so fare le cose basilari Un mio amico mi ha fatto un po' Un Una Rapida lezione sulle cose da fare E poi Mi sono buttato in questa In questa nuova avventura Sperando di non fare troppe Troppe sconcerie Eh non l'ho detto prima Comunque sia È una campagna live Tutto quello che sto facendo Tipo mobile mouse È live Ehm Per cui qualche stronzata ragazzi Capiterà per forza Non c'è niente da fare Ehm Voi Ma cavolo qua tipo Dove andare a prendere La La tecnologia Mi sono dimenticato Sì la tecnologia La La rovina E qua Solitamente Beh questo qua magari lo mette in automatico Solitamente Per vedere un po' Cosa c'è attorno Mettevo in automatico Gli I vari scout Eccetera Che mi andavano in giro Poi quando ho visto che Ogni volta si incriccavano In mezzo alle sponde Oppure andavano ad invadere I territori I territori E Amici Allora Distruggendomi I rapporti Sucelli Ho detto Beh quasi quasi Esploro manualmente Manualmente Bene ragazzi Sono sicuro che già Fino ad ora La campagna vi sta Entusiasmando Veramente un botto Io sono felice di questo Oh Rovine esplorate Aumenta la popolazione Questo potrebbe essere utile Ehm Che cazzo è questo? Arrivederci Dov'è? Ah è qua giù È qua giù Qua ci sono gli egiziani Unità tende ordini Gli egiziani Sono tanta roba Sono proprio tanta roba Ok Andiamo avanti Ehm La grafica che utilizzo Non è Proprio Propriamente Chissà quanto bella Però portate Portate pazienza Questa qua Mi sono rotta La mettiamo Automatica L'esplorazione Così Va Da sé Perché chi fa da sé Fa anche per tre Ehm Sapete che non ho capito Dove Veramente dove diavolo sono Comincio a dubitare Anche di aver messo Terra Come Come Mondo Mondo di nascita Ok Dai che fra Tre turni Faccio un monumento Un monumento Un monumento Accarati Ok Torniamo Torniamo Ehm Verso fine campagna Io pensavo anche di mettervi Ehm Se non faccio troppe troppe stronzate I salvataggi Del Tanto qua Quasi 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 E il salvataggi Del Ehm Della campagna appunto Così magari Se Volete portarla avanti Vedete Posso Adottare una politica Ehm Il cibo Ok Mi piace Chiudi Io Ehm Tanto Qua Vittoria parziale Diciamo che La vittoria parziale Mi basta Più che vittoria parziale È stata Se non è che Non è stata proprio Una vittoria Qua non si può spostare Ok Va bene Va bene Quell'unità lì È già morta Cioè Niente da dire Turno successivo Intanto faccio un lavoratore Che così comincia a tirarmi su Un po' Atene Che diventa un po' Più bellina Ma come detto Questo qua È morto Ormai No Cazzi Incazzatissimi Sti ragazzi Sì Ok Grazie Questa qua La devo mettere in riparazione Per forza Perché è veramente Ridotta All'osso Qua Tiro con l'arco Tiro con l'arco Ceramica Alleamento di animali Tu non sceglie Ehm Cominciano a riprodursi Mi piace Quando la gente Si riproduce così Sotto i miei occhi Beh Oddio Ho detto una cosa bruttissima Con più bastoni appuntiti Hai capito Sono il L'impero Più pippa Attualmente Ma Noi non ci vogliamo scoraggiare Via ragazzi Turno successivo Turno successivo Qua comincia Continua a aumentare la gente Ok Turno successivo Turno successivo Ok Qua sotto sta esplorando Intatto O l'altro tipo L'altro tipo Vero No Diciamo che li sta prendendo Questo è morto Perché essendo uno scout Ora ora Deve scappare A gambe elevate Se no Se no Se no Le prende veramente Di brutto Ok Devo anche cominciare A pensare A espandere I miei domini I miei domini Ok Allevamento di animali Prossimo Cosa facciamo Ragazzi Qualcosa Qualche piccolo consiglio Da dare No Nessun consiglio Ok Allora Facciamo questo E Passiamo Il turno Tu Mettiti In riparazione Un attimino Che se no Il primo Il Il primo Bandito Che trovi Ti fa fuori Come Come fossi noccioline Ok Torniamo qua Ok Vediamo un po Vediamo se c'è qualche risorsa Bellina Bellina risorsa No Non è che c'è tanta roba Tipo qua Potrei fare qualcosa Potrei Conquistarmela Ok Qua dovrei fare fuori Tipo questo Accampamento Babbarico Che Potrebbe Crearmi problemi Se no infatti Continua A produrre Sbabbari All'infinito Se non lo faccio fuori Turno successivo Dai che qua Quasi finito di riparare Si Attendere prego Oddio Sconfitta Minora Allora Turno successivo Ok Si è riparato Se mi attaccano Ok Porca miseria Io quasi quasi Li attacco Perché Dopo Faccio esperienza E infatti Faccio esperienza La riparo E dopo lo posso Riattaccare No Dopo Non adesso Dopo Non adesso Dopo Non adesso Ok Cosa facciamo Calendario Calendario Ormai è fatta Via Via ragazzi Se siamo già Al turno Mil Mil Ok Tu Mettiti A costruire A costruire Qualsiasi cosa Ci sia da costruire E Tu costruiscimi Un Un'oplita Si dai Un'oplita Un piccolo Oplita Ok Ci sono Di meraviglie Di luce Ecco Si vabbè Non è che Ne avrei proprio Tanto bisogno Però In futuro Ho sempre Avuto problemi Di infelicità E allora Meglio far così Meglio far così Ok Dai che Aia Aia La vedo dura La vedo assai dura Ragazzi Però Vabbè che È solo uno scout Però mi dispiace Sono affezione A tutte le mie unità Sconfitta minore Hai capito Hai capito Allora tu ti Fai Ti Ti trinceri Ti trinceri Devo spostare Il Il mio Povero scout Perché se no Veramente le prende Nelle orecchie Che non Non sarebbe Cosa buona E giusta E Qua il I miei Laboratori Stanno lavorando Allegramente In questo turno Mi sa che non faremo Non faremo Affatto Una nuova colonia Ma la faremo Nel prossimo turno Perché Prima Devo fare fuori L'accampamento Babbarico Che se no Mi fanno Grossi guai Sì perché Ragazzi Continuano a produrmi Sti cavolo di Barbari Mi stanno Cioè i barbari Veramente Io li odio Li odio Col profondo Del mio cuore Ah intanto Si è già passato Il turno Io stavo parlando Come un cretino Qua Sempre sconfitto Minore E allora E allora Stai lì Stai lì E aspettiamo Che finisca Di farsi Questo Piccolo Pita Tu riparati Turno Successivo Ah guardate Tebe Che bellina Tebe Ok Tu riparati Turno Successivo Turno Successivo Oio Aio Aio Qua si avvicinano Si avvicinano Gli sbabbari Ma perché Ce l'hanno con me Mannaggia Gli sbabbari Cioè Ciazzati neri Veramente Entra nell'epoca Classica Ah io sono un po' Indietro A dire il vero Però Non vogliamo dirlo Non vogliamo dirlo Da finiti Da Tre turni No due turni Eh vabbè Due turni Si può Si può aspettare Si può aspettare Ok Qua continuo a fare Tipo Avanti indietro Se li attacco Stallo E allora io li attacco No 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 E invece si dai Una vittoria Ogni tanto ci sta Bene ragazzi Prossima mossa Andare a distruggere Questo Accampamento Babbarico E poi Salutarvi Con Facciamo un colano Salutarvi Con Con tanto Amore Tanto 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 Amore Scrittura Biblioteca Tiro con l'arco Via Allora tu Ti muovi verso di qua E tu ti metti In riparazione E noi Turniamo Turniamo Ok Ok Io sono L'ultimo Cos'è Le Politiche sociali Adottate Vabbè Eh ragazzi Io non sono Tanto sociali Ho poche politiche sociali Però Ci piace Ci piace Ugualmente Via dai Ok Tu Vammi qua Con Tanta Velocità Nelle gambe Ah dai I babbari Vanno A fare il culo A Agli egizi Perché potrebbe anche essere Una bella cosa Tu allora Continua ad esplorare Bravo Ah Gli egizi sono arrivati Anche qua Ma poi Sono egizi Da tutte le parti Bene L'oplita greco È Ovviamente Ovviamente Unità speciale Di Alessandro Tiro con l'arco Dunque 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 Trappole Per animali Trappole Per animali Così Così Le faccio C'ho qualche Trappola Ah si No Non c'ho Trappole Non lo so Vabbè Non ho capito Non ci capisco Un cazzo Di sto gioco Però E Vittoria parziale E se ti metto Questo diventa Sconfitta Minore Ok Ci capisco Ancora Una fava Di questo gioco Però Confido Nel Migliorare Le mie doti Conoscitive Col tempo Aia 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 Stanno arrivando I rinforzi Nemici Allora Quanto cazzo Sono incazzati Sti Baffari Porca Troia Ma è stato Tanta fatica A farli fuori Ok Sì vabbè Di solito ho giocato A difficoltà Pip E Adesso sto giocando A difficoltà Normale Dai cazzo Fateli fuori Eh che cazzo Allora Ceci oro Porca Troia Ok Questa unità È fatta fuori Unità Attende ordini Ok Vabbè Il guerriero È morto Ragazzi Cioè Neanche più Da considerarlo Perché proprio È partito Non è il caso Ragazzi Direi Che Dopo Aver perso Questa mia Bellissima unità Io vi saluto Anche E Vi do Vi do Un attimo Solo che Prima mi ritiro Vi do Appuntamento Al prossimo Stronzo video Vi ricordo di mettere Tantissimo mi piace Ciao bellissime Tantissimo mi piace